Scritto, quando sarai grande potrai decidere tu quali colori ti faranno battere, quante quale. Noi intanto ti aspettiamo allo stadio comunale per ti fare insieme l'Arezzo. Un kit a Maranto per tutti i nati nel 2023, Cicogna Maranto, è infatti il nome del progetto ideato per il centenario dell'Arezzo Calcio e il sessantesimo delle farmacie comunali per festeggiare il comune anniversario. I genitori dei bambini e delle bambine, nate tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2023, potranno recarsi in farmacie e ritirare una sacca con il logo dell'iniziativa, una maglietta con il logo del centenario e alcuni prodotti per la prima infanzia. La distribuzione dei kit prenderà il via da lunedì 17 aprile nelle farmacie Campo di Marte, Giotto e Fiorentina. In questa iniziativa si vanno un po' a festeggiare due compleanni, quelli dei 60 anni delle farmacie comunali insieme a quelli del centenario. Allo stesso tempo si dà un imprinting a quello che è il nuovo nascimento, soprattutto si cerca di dare anche qualche maggiore impulso a quelli che sono gli ultimi due, perché guardando poi il 2022 i dati delle nuove nascite, poi il 2022 fosse il dato più basso in assoluto, più di 580 nuove nascite. Tutti i genitori dei nati nel 2023 potranno presentarsi dal lunedì prossimo, che è il 17, quindi dal lunedì 17, presso la farmacia 1, che è quella di Campo di Marte, la centrale, la farmacia 3, che è quella di via Giotto, e la farmacia 4, che è la nuova farmacia di via Fiorentina, con un certificato di nascita rilasciato dal Comune di Arezzo, che è facilmente ripetibile anche online, insomma non ci vuole tanto, e riceveranno un cadeau, come si diceva prima, quindi questa bag, si dice così, con dentro una magliettina dell'Arezzo Calcio e dei prodotti per l'infanzia messi a disposizione appunto dalle farmacie comunali. Il tifare una squadra, ok, sono di Arezzo, tifo la squadra della mia città, il tifoso è l'anima del calcio, dello sport in generale, però il tifoso vede un po' col barocchio, che no, io voglio vincere, tifo la mia squadra, il senso di appartenenza è qualcosa di più profondo, perché io posso tifare, posso tifare per varie ragioni, ma sentirsi parte di un qualcosa è qualcosa di più. Quindi in questo caso, partendo dai bambini, dai neonati, perché qui si parla proprio delle cicogne amaranto, quindi proprio i neonati, e di conseguenza le famiglie crea senso di appartenenza.